Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tornano piogge preziose per il nostro territorio, una perturbazione atlantica in transito causerà maltempo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 13 aprile. Sul Veneto condizioni spiccatamente instabili, con cielo molto nuvoloso e coperto. Avremo precipitazioni diffuse un po' ovunque per tutta la giornata e con frequenti rovesci e temporali anche di moderata intensità. Temperature in lieve calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 10 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto e precipitazioni intense, anche tempo lalesche, più consistenti sulle prealpi Giulie, con intense nevicate in quota. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso piogge diffuse ovunque, limite della neve in discesa fino a 1000-1200 metri. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dalla Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.